L'uccisione di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci ci lascia davvero costernati, senza parole. Naturalmente pensiero va alle loro famiglie che hanno condiviso con loro questo mettersi al servizio del nostro Paese in condizioni difficili come quelle della Repubblica Democratica del Congo. E penso in particolare alla figura di Luca Attanasio, che è una figura che bene esprime quello che è il modo lombardo di mettersi al servizio delle istituzioni. Proveniente da una solida storia cattolica, Attanasio ha scelto come luogo per mettersi a servizio degli altri un continente come l'Africa, che aveva nel cuore e che portava quotidianamente nel suo impegno. Ecco, spero davvero che questo suo sacrificio possa indicare a tutti noi una strada per recuperare l'attenzione verso un continente importante per il nostro futuro come l'Africa. Un continente in cui l'Italia può dire cose importanti e lo fa silenziosamente e quotidianamente con tanti missionari e con figure come quella di Luca Attanasio. La sua eredità deve essere raccolta da tutti noi. Di nuovo un pensiero commosso e grato alle famiglie dei due italiani uccisi barbaramente in Congo.